buonasera a tutti siamo in diretta con la presentazione del corso di concept art per videogame è uno dei quattro corsi dedicati al mondo del videogame di scuola internazionale di comics padova io sono stefano tamiazzo sono il direttore artistico scuola comics ha un settore di videogame ormai inaugurato alcuni anni fa che procede per nostra fortuna gonfie vele con un settore dedicato al game design al concept al 3d e poi alla parte di sound design e di programmazione con noi tra poco una buona fetta del corpo docente di questo corso che è uno dei più gettonati e di più successo di scuola comics due giorni di frequenza alla settimana tre turni possibili dalle 10 alle 13 al mattino dalle 15 e 18 al pomeriggio 18 e 30 alle 21 e 30 alla sera la lezione la medesima sempre con lo stesso insegnante cambia il turno perché vengono persone che lavorano si occupano che ne so fanno un part time hanno un lavoro fisso hanno alcune giornate libere per cui possono diciamo trovare la giornata e il turno preferibile poi soprattutto perché viene tutto il fiuli venezia giulia il veneto il trentino alto adige diciamo bologna ferrara a salire ci siamo comunque attrezzati nonostante la pandemia anche online con grande fortuna soprattutto con un discreto successo e procediamo anche la con la promozione dei nostri dei nostri corsi io invito in questo momento uno dei nostri docenti alberto dall'agua a cui do la buona serata ciao alberto buona serata ciao stefano e ciao a tutti quanti gli amici che ci seguono in questo momento perfetto io tra poco mi escludo lascio la parola alberto che diciamo per una decina di minuti farà una diciamo darà una visione generale del biennio perché stiamo parlando di un corso che dura due anni dopodiché sia alberto che poi pian piano gli altri insegnanti come dire entreranno più nello specifico in chat sono benvenute le domande e quindi io lascio la parola ad alberto e ci rivediamo fra qualche minuto ciao alberto ciao stefano a dopo grazie allora benvenuti grazie di essere qui io sono alberto allago uno dei docenti della scuola e anche illustratore freelance di professione allora vi faccio una sintesi di quello che è il corso di concept art per videogames tendenzialmente il corso intanto si rivolge a chi si rivolge ovviamente tutti gli aspiranti concept artist quindi vorrei un attimino chiarire quella che è la professione in questione e fondamentalmente quando si parla di concept art si parla di una disciplina che prevede così la creazione di concept e quindi di disegni illustrazioni sketch e quant'altro che vengono impiegati all'interno di un progetto che nel nostro caso è di natura così di intrattenimento quindi è legata all'industria cinematografica e videoludica questo senza nulla togliere ovviamente alla figura del concept artist in altri settori come può essere quello non so del mobile delle automobili cosa di questo tipo nel nostro caso parliamo invece del settore dell'entertainment che negli ultimi anni ha possiamo dire settato dei parametri qualitativi molto molto alti grazie anche appunto all'incremento della tecnologia quindi ridefinendo un po che il concetto di immaginazione quindi pensiamo a film videogiochi super iper realistici con effetti davvero davvero molto molto incredibili in questo caso quindi pirotecnici e quant'altro quindi dicevo la figura del concept artist è quella di un disegnatore che deve produrre disegni che in qualche maniera subiscono una sorta di scrematura perché queste proposte poi vengono vagliate da una figura di riferimento e quindi questi questi concept poi vengono in qualche maniera scelti per essere passati ad altri dipartimenti perché non dimentichiamo che il concept artist lavora così con in quella che viene chiamata pipeline cioè quindi insieme ad altre ad altre maestranze chiamiamole così questo ci porta automaticamente così a intercettare due elementi fondamentali cioè il fatto che il concept artist sia un disegnatore e che debba essere anche molto veloce nella produzione di concept il primo elemento significa che il concept artist deve basarsi su tutto quello che è il know how cioè avere il bagaglio di conoscenze e di riferimenti tipici del lavoro di disegnatore quindi conoscere anatomia prospettiva teoria del colore eccetera eccetera ma al tempo stesso farlo anche in maniera molto veloce come dicevo prima è molto necessario che un concept artist sia pronto e veloce proprio per per il tipo di mercato a cui sono rivolti concept quindi la prima parte ovviamente fa parte del bagaglio di un illustratore di un disegnatore così in generale la seconda viene implementata con la conoscenza di strumenti tecnologici ovvero l'utilizzo di software che ci permettono di disegnare di essere molto versatili e molto molto veloci molto rapidi prima di chiedere a stefano la condivisione del monitor dove vi mostrerò diciamo così quelle che sono le gli argomenti più più interessanti più gettonati della concept art vi dico che appunto il corso dicevo prima si propone di formare concept artist professionali e professionisti professionali e lo fa tramite appunto un percorso che si snoda per per due anni l'inizio di questo corso come poi insomma vi dirà il docente in questione parte comunque con una solida preparazione di basi anatomiche e prospettiche necessarie per definire un po' quelle che sono le volumetrie che si andranno a studiare nel corso del della vostra della vostra esperienza e dall'altra parte una diciamo così un'altra solida preparazione per quella che è la base di photoshop quindi capire come affrontare questo strumento tecnologico digitale interessante ma alcune volte anche un po' disorientante per chi ha le prime armi quindi se stefano mi consente io andrei direttamente a far vedere le nostre slide ok allora succede questo succede che il corso poi al di là del diciamo del di questi primi segmenti di cui ho parlato parte direttamente con lo studio di creature di scusate di personaggi e di creature che sono le cose un po' più tipiche della concept art in questo caso sia per i personaggi che per le creature si parte da quelle che sono un po' le basi cioè il plasmare un concept partendo dalla silhouette poi tutto questo ovviamente si sviluppa in un percorso abbastanza standardizzato che prevede la definizione dei vostri concept con la line art con lo studio delle scale di grigio ovviamente tutto questo conoscendo anche la teoria della luce e insomma ovviamente l'anatomia che vi è stata abbondantemente insegnata prima per poi arrivare ovviamente alla presentazione dei concept con gli schemi di colore l'interpretazione del vostro personaggio l'aspetto psicologico perché è importante che i vostri concept diano una sensazione immersiva chi li sta guardando i dettagli insomma gli abiti così via per le creature diciamo che avviene la stessa cosa nel senso che si parte sempre da una base legata alla silhouette che poi trova la sua naturale evoluzione in quello che è appunto lo studio della line art delle forme della luce per dare più tridimensionalità ai vostri ai vostri lavori fino ad arrivare poi alla presentazione dei vostri lavorati con il colore questo poi va di pari passo anche con lo studio di certi rendering materici di cui poi parleremo in maniera più approfondita in in seconda sede e immancabili sono anzi prima di parlare delle ambientazioni faccio un piccolo riferimento al fatto che tra diciamo un segmento di lezioni all'altro ci sarà anche una parte molto importante legata all'interpretazione stilistica dei concept che prevede così il lo studio anche di uno stile un po più cartoon proprio per cercare di coinvolgere lo studente a 360 gradi in quello che è la ricerca del proprio stile quindi questo è un uno spaccato di lezioni molto molto importante dicevo non possono mancare chiaramente quelle che sono le ambientazioni le ambientazioni sono fondamentalmente trattate alla stregua delle creature e dei personaggi come progress come progressione quindi si parte dal bianco e nero l'importanza di dare ovviamente profondità ai propri concept con l'uso di contrasti e scale tonali con l'esplorazione anche di diciamo disegni direttamente a colore per poi arrivare al diciamo settare quelli che sono i parametri del del colore per cercare di attivare quello che viene definito mood ok è molto importante proprio per la l'effetto di spettacolarizzazione dei nostri concept di cui parlavo prima e il corso prevede ovviamente anche l'esplorazione del mecha design è legato appunto alla creazione di robot di armi tecnologico comunque appunto il design mecha come viene definito in gergo nonché alla creazione di props che sono come dire parti imprescindibili all'interno di un gioco comunque di un di un progetto perché sono oggetti che possono impugnare i vostri protagonisti o che possono essere si possono trovare nel nel corso di un'avventura si prosegue verso la fine quindi con quella che è la parte diciamo ultima più o meno del corso ovvero cercare di rendere il nostro workflow quindi il modo in cui noi lavoriamo molto molto veloce e molto più professionale cioè ottenere molto con poco con poco tempo proprio perché dicevo tramite l'utilizzo di tecniche come matte painting o photo bashing che ci permettono di elaborare fotografie dipingere sui fondali direttamente sulle fotografie possiamo sfruttare la versatilità dei programmi e al tempo stesso possiamo anche definire dei concept in maniera molto molto realistica vi ricordo sempre che la velocità è uno dei fattori fondamentali quando si parla di concept art della serie serve un concept in tempi molto brevi magari l'avete già fatto però vi viene richiesto di modificarlo o di aggiungere qualche effetto proprio all'ultimo secondo quindi il fatto di saper padroneggiare certe tecniche digitali è sicuramente un valore aggiunto e alla fine del corso si si affronta l'immancabile chiusura ideale cioè ovvero la creazione di immagini chiamate promo arte cioè praticamente sono quelle immagini che vengono confezionate per andare un attimino a incuriosire gli addetti ai lavori incuriosire chi vuole giocare i futuri diciamo acquirenti del nostro del nostro gioco ed è un po la summa di tutto quello che è stato studiato nel corso dei due anni fondamentalmente si parla di creare illustrazioni che siano un po' l'anima del del gioco del progetto che si che si che si sviluppa per che devono avere questo carattere appunto immersivo nel senso che chi guarda queste immagini deve ovviamente sentirsi già all'interno del gioco quindi hanno una responsabilità molto molto importante e per far vengono messi apposta nell'ultima tranche del dell'ultimo anno proprio perché sono richieste delle skills molto molto particolari quindi anche qui composizione utilizzo delle luci conoscenza dell'anatomia capire come che tipo di schemi di colore utilizzare e quant'altro a questo mi sono dimenticato di dire prima si aggiunge anche una così una piccola parentesi di lezioni legate al game design quindi tutto quello che riguarda anche il un po cioè quello che è il videogioco la storia del videogioco quello che ci si aspetta da un concept artist quindi sono delle parti molto molto importanti che permettono anche allo studente di capire un po di più di quello che riguarda questo questo mondo e niente diciamo che io vi ho raccontato questo percorso per sommi capi quindi diciamo questo pdf condensa un po tutto quello che troverete all'interno del del biennio quindi per quanto mi riguarda stefano se non ci sono altre cose da da dire penso di essere stato giusto nei dieci minuti circa si si è stato velocissimo e diciamo che una delle cose che possiamo aggiungere prima di salutarti ma ci rivedremo tra un po di minuti è che il vantaggio di questi corsi di scuola comics tra i vari vantaggi c'è quello che si può iniziare da zero per tutti quindi non c'è una come dire una capacità pregressa l'unica cosa che noi richiediamo che ovviamente non si può acquistare con i soldi è quello di avere un grandissimo entusiasmo e di venire pronti come dire a disegnare dalla mattina alla sera per poter poi arrivare a come dire a fare la professione alberto io ti saluto prima di salutarti però invito carlo piu certo ciao carlo ciao benvenuto io nel frattempo saluto alberto ci rivediamo fra poco eh carlo allora tu tra l'altro oggi ti occuperai un po di una presentazione oltre che della tua parte eh anche quella di massimo malosso che non può essere qui con noi si diceva pochi secondi fa che si parte da zero per tutti e a questo punto io ti lascio la parola anche tra le due parti un sei sette minuti abbondanti per poter spiegare alcune cose esattamente ti ringrazio Stefano tra un po metterò in condivisione anche delle immagini eh sullo schermo beh sono la persona giusta con cui parlare quando si tratta dell'argomento cominciare da zero visto che la prima lezione che eh gli allievi faranno sarà proprio come sarà una lezione d'esordio in cui ancora non si utilizzerà eh nessuno strumento digitale faremo del disegno con la normale grafite delle normali matite su un foglio questo perché perché in realtà appunto diamo per scontato che tutta tutta diciamo eh tutto il corso sia eh veramente eh fatto per partire da zero quindi senza nessun tipo di competenza sugli strumenti digitali eh questo cosa comporta ovviamente comporta il fatto che mh entro breve però eh i ragazzi dovranno traslare da la versione diciamo tradizionale del disegno a quella digitale perché eh è lì diciamo che si svolge il 99,9 per cento del lavoro in questo tipo di industria di produzione eh però cominciamo per per con ordine io mi occuperò di eh tutto quello che è eh l'anatomia il disegno della figura la prospettiva e ovviamente anche il disegno della figura in prospettiva poi farò anche durante il secondo anno una breve introduzione al corso di meca design dove in realtà recupereremo buona parte di quello che si è visto durante il primo anno eh durante il corso di prospettiva e verso la fine del primo anno in realtà mi occupo anche di una manciata di lezioni dedicate al pre visual ossia la pre visualizzazione di quella che può essere una schermata di gioco quindi diciamo che nel corso del primo anno con me si parte da zero e poi si applica tutto quello che si è fatto per riuscire ad effettivamente a eh produrre queste schermate di pre visual ehm io se per te va bene Stefano partirei anche con la condivisione dello schermo così hanno tutti la possibilità di vedere eh quello che eh ciò di cui parlo sostanzialmente quello che vediamo durante il corso è capire come partire da quella che può essere un'immagine di riferimento una foto o anche solo un bozzetto di quella che noi vogliamo eh rendere la nostra immagine definitiva eh governando l'immagine governandone le proporzioni la misura tutto quello che è legato alla 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 all'anatomia in in senso stretto e in pratica per fare eh questo tipo di per ottenere questo tipo di controllo e di capacità di disegnare eh partendo da zero eh come è successo ad esempio nel nell'immagine che vedete si parte dalle forme semplici la prima lezione in realtà a parte una piccola eh diciamo un piccolo disegno che faremo tutti assieme all'inizio per capire un po' eh che cosa facciamo come siamo in grado di gestire alcune cose e via dicendo però da subito dopo si parlerà appunto di forme semplici e come vedete eh l'esempio che vi sto mostrando in questo momento a schermo altro non è che la scomposizione della figura che avete visto prima in forme ultra semplificate si tratta sostanzialmente di sfere per la testa come forma base poi a cui poi vanno aggiunte e tagliate delle parti eh cilindri principalmente alcuni tronchi di cono e anche alcuni eh alcuni eh scatolotti di varia misura cosa comporta questo tipo di approccio comporta la possibilità di eh come dire muovere oggetti molto semplici prima di eh come dire entrare nella difficoltà di dover gestire effettivamente l'anatomia nella sua complessità ovviamente eh questa fase diciamo per forme semplici sta alla base di tutti i disegni ehm a prescindere dal tipo di finalità che vorrete ottenere poi con il vostro lavoro una partenza di questo tipo è adatta sia per un disegno comico che per un disegno più realistico perché si fonda essenzialmente sullo studio della forma la forma consente poi di gestire anche tutto quello che è eh appunto eh la teoria della luce e tutte le altre eh situazioni che devono essere prese in considerazione quando si fa un un dipinto digitale o meno eh completo la fase diciamo eh successiva eh del corso dopo questa prima eh studio di eh scomposizione della figura umana in forma base e invece eh verte sull'aspetto muscolare sul funzionamento del corpo e quindi capire quali sono i margini di movimento del corpo e quindi non solo figura statica ma anche figura dinamica figura in movimento figura che eh eh effettivamente compie delle azioni e questo è eh fondamentale ovviamente per eh per parlare diciamo eh in termini di videogioco dove effettivamente la figura del nostro personaggio in qualche modo deve interagire con eh con l'ambiente che lo circonda e poi ovviamente eh nulla sarebbe se non ci fosse poi quella fase definitiva quella sorta di eh come dire rimpolpamento di tutte eh di tutte le componenti che servono per disegnare la figura per ottenere quella che è la figura definitiva in realtà poi da uno schema di figura eh tradizionale normale nudo come ci abitueremo a disegnare sin da subito dopo si può arrivare ovviamente a vestirlo e a eh trattarlo nei modi che si preferisce ma questo ovviamente eh questa parte di corso afferisce principalmente a quello che è il character design l'altra eh l'altro corso che eh che tengo è quello legato alla prospettiva adesso quelle che avete visto sono state delle immagini create per un per un workshop online sempre qui eh che potrete trovare qui sul sul facebook della scuola di Padova della scuola comics di Padova le altre immagini che vedrete da qui in poi sono principalmente immagini tratte da lezioni svolte in classe quindi sono disegni che io eh faccio in classe in tempo reale per mostrare ai ragazzi eh le cose che intendo spiegare in particolare quelle che vedete sono alcune immagini che utilizzo e che creo per spiegare eh la prospettiva eh in realtà questa è la prima diciamo la fase finale della prima lezione di prospettiva lineare dove proviamo a capire come funziona la prospettiva centrale e ovviamente però il procedimento è molto simile per tutte le altre eh tipologie di eh di prospettiva da quella intuitiva a quella tre punti di fuga sostanzialmente ovviamente eh la prospettiva non è nulla se poi rimane una serie di scatole posizionate nello spazio ed ecco quindi che nel medesimo schema prospettico in questo caso di una prospettiva a due punti di fuga andiamo effettivamente a eh inserire delle eh delle figure umane le due immagini sono eh sono la medesima eh sono sono la stessa immagine solo che a destra è stato aggiunto un come dire un movimento ulteriore alle figure che compaiono e come vedete però partendo da uno schema a blocchi semplificati e governandoli in maniera corretta e soprattutto coerentemente con la prospettiva diventa facile non solo muovere la figura spostando in avanti lateralmente le gambe alzando e abbassando il braccio ma anche realizzare dei movimenti apparentemente minimi ma sicuramente e quindi eh si può pensare che siano più semplici ma in realtà spesso sono i più complessi dove effettivamente eh la prospettiva richiede una rotazione e un'inclinazione anche a livello del eh a livello di orizzonte se vogliamo come nell'esempio di questa di questa ragazza che attende di essere eh portata al ballo e sempre rimanendo nello stesso tema ovviamente la figura in prospettiva non è solo posizionamento eh come dire rispetto agli altri elementi della scena ma è anche scelta del punto di vista da cui partire anche questa immagine è stata fatta durante il corso quest'anno siamo partiti con un orizzonte all'altezza più o meno degli occhi del nostro osservatore o subito sopra la sua spalla che tra l'altro è anche un'inquadratura tipica di alcune tipologie di gioco e poi da qui siamo partiti per andare a costruire via via il nostro manichino in questo caso però abbiamo puntato diciamo la nostra attenzione sulla resa del movimento e quindi dopo aver eh come dire realizzato alcuni bozzetti di quello di quella che sarebbe stata la dinamica della figura che abbiamo realizzato vedete da una figura statica siamo passati da una figura pronta al combattimento quindi gambe eh gambe piegate busto leggermente spostato in avanti eh soprattutto piedi che vanno anche a eh come dire puntare eh diciamo divergendo eh davanti al personaggio e poi ovviamente anche immaginando la posizione delle braccia che tengono gli eventuali eh delle eventuali armi partendo da questa situazione quindi siamo andati a immaginare la figura abbiamo costruito come sempre la figura inizialmente utilizzando delle forme semplificate una volta eh come dire raggiunta questa fase abbastanza avanzata del disegno siamo andati anche a vedere che probabilmente questa gamba spostandola anche solo leggermente più indietro quindi avvicinandola all'osservatore e ruotandola ancora di più avrebbe reso l'immagine un po' più dinamica una volta che queste forme base sono bloccate abbiamo deciso quella che sarà la dinamica del nostro corpo poi eh si parte con quello che è uno studio un pochino più eh come dire un pochino più arricchito delle forme base e poi andare ad aggiungere tutta la parte muscolare volendo eh come fase intermedia e infine la fase diciamo con tutta la figura ormai completamente eh completamente scolpita qui mancano ovviamente tutti gli elementi di eh caratterizzazione del personaggio che ovviamente anche in questo caso eh diciamo eh spettano alla porzione di corso dedicata al character design benissimo Carlo in realtà se vuoi Stefano posso parlare anche un secondo di Photoshop eh fingendo di essere Massimo Malosso che eh assolutamente nel caso volesse vedere questo video video indifferita sostanzialmente con Massimo affronterete tutto quello che è Photoshop e i suoi strumenti partendo da zero questo significa che eh partendo veramente da zero considerando che voi non sappiate quasi nulla o nulla di un computer potete arrivare effettivamente a usare tutti gli strumenti di Photoshop e farlo ovviamente nella maniera corretta e funzionale per quello che serve a un artista della concept art ok Stefano perdonami se ti ho interrotto ma era giusto per quello che ci interessava anche spiegare che ci sarà proprio un passaggio iniziale dalla carta eh che poi verrà trasferito quasi in contemporanea direttamente come dire al digitale perché gli verranno spiegato gli strumenti come settare i pennelli come come utilizzare gli strumenti al meglio e pian piano alla carta si passerà al digitale perché sono due parti fondamentali ma chiaramente si tratta di file digitali che devono essere riutilizzati e quindi di quello si necessita Carlo io ti saluto nel frattempo aggiungo Beppe che però forse eccoci qua Beppe benvenuto Giuseppe che si eh eh occuperà appunto della del segmento a cui Carlo faceva riferimento del character design Carlo io ti saluto nel frattempo grazie a tutti buona 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 seata bravo dopo e Beppe hai qualche minuto anche te per spiegare diciamo una parte fondamentale perché questa parola character design fa venire una culina in bocca generalmente ai nostri studenti e anche a noi disegnatori perché nel personaggio si mettono molte delle nostre aspettative che ci dici certo beh intanto ciao Stefano ciao a tutti eh beh intanto sono Giuseppe De Jure sono un illustratore concept artist di professione e nel corso di eh concept art per videogame sulla famix di Padova mi occupo appunto di character design cioè presenta eh creazione e progettazione del personaggio eh subentro appunto dopo Carlo e eh Massimo quindi dopo che le basi di anatomia e di Photoshop sono ben consolidate e eh lo scopo della mia porzione di corso è quello di eh creare personaggi interessanti interessanti a livello visivo e anche a livello narrativo proprio perché dovranno servire all'interno di un progetto molto più grande che è quello del del video eh partiremo inizialmente eh appunto dal dal manichino fatto con con Carlo eh sul quale andremo a sviluppare diverse strutture corporee strutture fisiche in modo da iniziare a differenziare il personaggio eh applicheremo poi anche il il trappeggio quindi studieremo i diversi tipi di del rappeggio e come rendere l'abbigliamento del personaggio via via più tridimensionale studieremo inoltre in maniera anche abbastanza eh soffermandoci anche parecchio diciamo sulle silhouette sulle thumbnail e sull'importanza che eh queste hanno all'interno del mondo della concept art vedremo eh quindi anche gli elementi e i principi di design eh parlando anche di linguaggio della forma dell'utilizzo delle forme base come quadrato, triangolo e cerchio per eh caratterizzare e dare al personaggio una eh un aspetto che possa essere più cattivo, più buono eh o più amichevole in modo appunto sempre da eh differenziare i personaggi, dargli una personalità eh sempre incentrata su quello che è lo sviluppo in un ipotetico videogioco eh parleremo appunto anche di suddivisione degli ingombri, di come creare un punto focale nel personaggio, dirigere lo sguardo del dell'osservatore verso un punto specifico nel nel caratter in modo che eh sia subito ben chiaro qual è la la componente più importante nel personaggio a livello narrativo eh parleremo anche di linguaggio del corpo e di posture e pose in modo da evidenziare eh le caratteristiche psicologiche del del caratter fino ad arrivare a ehm quella che è la line art appunto un disegno definitivo che servirà appunto per mh presentarlo anche a un ipotetico eh cliente. Rifiniremo un po' il tutto con delle tinte piatte, delle palette eh dando un accenno anche a quello che è il colore, colore che poi verrà visto durante il secondo anno. Infatti il secondo anno si parte subito con eh tipologie del personaggio, quali sono i caratter che eh di solito compaiono nella narrazione videoludica, quali sono le loro caratteristiche e eh quali saranno i loro mh le loro caratteristiche all'interno dei diversi delle diverse tipologie di gioco. Vedremo inoltre eh i diversi fatti somatici, le espressioni facciali, eh ci soffermeremo anche su alcuni aspetti tecnici legati alla finitura del concept come lo studio dei del texture legate ai caratteri, ai materiali, come mh come diversi materiali eh reagiscono alla luce appunto cercando di eh illuminare il caratter nel senso di prendere il personaggio, l'esempio che di solito faccio agli studenti è immaginare il personaggio come una action figure, una statuetta che mettiamo all'interno di un eh di un piccolo set fotografico e siamo noi a scegliere la direzione della luce e se la luce avrà un colore particolare in modo da influenzare anche quello che è l'atmosfera, il mood generale sia del personaggio che appunto dell'intero eh videogioco. Verso la fine dell'anno, del del secondo anno, vedremo anche delle tecniche avanzate di concept art come appunto la tecnica del photobashing, alcune basi di 3D con Photoshop, parleremo inoltre di eh user interface, di pipeline di lavoro in modo da riuscire a capire dove si colloca la figura del concept artist all'interno della dell'industria dell'intrattenimento e quindi di tutta la catena di montaggio. Eh in realtà ci sono anche tanti altri piccoli topic che toccheremo durante il corso. Eh alcune considerazioni in realtà in generale eh per eh per eh la parte di character design ma che poi è un po' vale anche per tutte le altre è la il fatto di concentrarsi nella produzione di materiale da inserire all'interno di un portfoglio inizialmente scolastico ma eh via via un portfoglio eh professionale. Tutto quello che riguarda le la le spiegazioni e anche poi la la parte pratica è eh concentrata eh nell'applicazione di un metodo di lavoro fa sì che il che l'allievo riesca ad avere un metodo di lavoro che gli permetta di affrontare tutte le problematiche che gli vengono sottoposte durante eh la lavorazione di un videogioco ad esempio in maniera abbastanza semplice eh spezzettando il problema eh il macro problema che nel mio caso è appunto quello della creazione del personaggio in diversi eh in diverse piccole fasi che sono appunto prima l'ideazione e la creazione della silhouette in modo da eh capire la forma generale che dovrà avere il personaggio e poi via via arrivare alla thumbnail e alla lineart in modo da capire eh nel dettaglio che che caratteristiche dovrà dovrà avere il personaggio quindi quali sono gli accessori quale sarà l'abbigliamento eh cercheremo in ogni modo di eh creare tante ipotesi di uno stesso personaggio in modo da non soffermarsi su una prima e unica eh lettura del del caratter ehm in realtà è questo è un po' tutto il lo scopo diciamo fondamentale è anche quello scusa Stefano lo scopo fondamentale è quello appunto di eh portare passo passo l'allievo a sviluppare il proprio metodo partendo da quello che forniamo eh a scuola e che lo sa magari anche sviluppare il proprio stile di disegno e riuscire così poi a eh a provare nel mondo del lavoro beh insomma direi un programmino bello intenso eh è sicuramente potente senti Beppe io nel frattempo io rinvito Alberto Dallago che tu conosci bene e ti ti saluto perché poi tu in realtà hai fatto anche hai fatto bene anche un piccola una piccola anticipazione al al secondo anno ma hai fatto benissimo a farla ehm ti saluto passo la parola ad Alberto che ha anche lui una bella parte ti ringrazio moltissimo ciao Beppe ciao ciao e e Alberto tu hai un altro bel po' di come dire di programma bello potente sulle spalle da da rappresentare del primo del primo anno parliamo giusto adesso no al momento esatto tenti circa un cinque minuti quando mi vedi riapparire sai che vabbè vengo a guardare va bene grazie se ho delle slide ti chiedo ovviamente di condividere il monitor allora eh per quanto mi riguarda noi avremo una tranche di lezioni come anticipava Stefano abbastanza importante direi e innanzitutto dopo la così l'anatomia e Photoshop e i character noi facciamo un piccolo passo indietro e faremo un tutto un piccolo ciclo di lezioni legate alla conoscenza della teoria della luce e di conseguenza anche dell'ombra cioè cosa succede la luce quando colpisce un oggetto e che tipo di eh gradazioni tonali crea cosa succede per capire come eh rendere eh come dire cambiare le volumetrie a seconda di come batte la luce fondamentalmente questo perché avendo già fatto una sorta di anticipazione eh con l'anatomia di Carlo eh di come funzionano i volumi e i solidi cerchiamo di portare poi questo questo concetto mh in una dimensione un po' più tridimensionale e quando dico tridimensionale non intendo utilizzare un programma tridimensionale ma significa cercare di restituire mh dei concept più meno meno piatti e più appunto mh con più spessore quindi capire essere i registi della della luce significa riuscire appunto a dare tridimensionalità ai nostri concept perché è molto importante in quanto poi eh questo ci permetterà di mh creare eh diciamo così degli effetti luce davvero davvero interessanti proprio per le motivazioni che avevo anticipato all'inizio e mh questo diciamo mi porta anche a fare un'altra considerazione e dopo queste lezioni ovviamente affronteremo le creature e anche le ambientazioni però tutto questo eh slot di lezioni verrà affrontato eh solamente con il bianco e nero il chiaro scuro cioè non faremo colore fino al secondo anno quindi per il colore aspetto poi eh di parlarvene in un secondo momento perché dal mio punto di vista se si è bravi se si riesce comunque elaborare un concept o comunque un'illustrazione in scala di grigio quindi con i contrasti al punto giusto con la profondità con una transizione tonale che funziona poi mettere il colore sarà non dico un gioco da ragazzi però sarà sicuramente uno step un po' più agevolato quindi batteremo molto sul sui bianco e nero quindi ripeto prime lezioni teoria della luce con anche qualche tecnica di blending capire anche come passare dalle tinte piatte che avete eh che avrete visto poi con Giuseppe a qualcosa di più pittorico eh cercando di proprio dare un senso anche al al nome di pittura digitale quindi eh usando proprio gli strumenti eh di Photoshop come pennelli testurizzati o meno e così via eh per quanto riguarda le creature e le ambientazioni ma in realtà questo questo segmento di lezioni è anche interessante perché vedremo per quanto riguarda le creature una parte dedicata alla all'anatomia comparata quindi forte del fatto che sicuramente tutti quanti grazie a Carlo avrete imparato come si deve a modino l'anatomia umana l'idea è quella di partire dalle creature facendo una comparazione tra quello che è il nostro la nostra struttura e quella di alcune specie animali che io ho accuratamente selezionato eh proprio perché sarebbe impossibile vederle tutte ehm e l'idea era quella di prendere quelle un po' più utilizzate nell'ambito della concept art e da lì si procede poi con un primo step verso l'ibridazione cioè la creazione di un concept di una un animale diciamo di nostra invenzione ibridando appunto le specie che abbiamo visto insieme e questo diciamo che come primo eh beh tutto questo viene organizzato però eh contestualmente a un una piccola un piccolo progetto che faremo insieme eh concertato tra me e Giuseppe dove dovrete fare delle cose simulando una sorta di di rapporto professionale quindi eh senza svelare troppo poi insomma ne parleremo quando quando sarà il momento e per quanto riguarda invece le le ambientazioni anche qui come ho già accennato durante il cappello introduttivo si parte sempre da un dal bianco e nero però prima di affrontare diciamo l'aspetto eh manuale vero e proprio quindi la creazione e l'elaborazione di concept si fanno si fa una una parte relativa alla composizione molto importante perché vi permetterà di inquadrare quelle che sono eh quelli che sono un po' i capisaldi della composizione punto focale eh quindi con la regola dei terzi eh colore contrasto e numero di elementi tutte nozioni assolutamente indispensabili e imprescindibili per creare delle composizioni eh gradevoli ma soprattutto funzionali vi ricordo che quando si fa un disegno poi siete voi dover eh far dirigere lo sguardo di chi guarda verso una una parte o un'altra del vostro disegno quindi se ci riuscite vuol dire che avrete messo bene in pratica queste nozioni altrimenti bisognerà correggere un po' il tiro ovviamente di lì si proseguirà con il quello che è appunto il naturale poi evoluzione della del concept sulle ambientazioni quindi con studio di eh elementi paesaggistici di base che poi verranno ovviamente riprodotti come thumbnail quindi con il giochino di cui parlavo prima cioè ehm utilizzando grigi scuri grigi medi e grigi più chiari per creare un senso di profondità per creare diciamo così una costruzione di piani molto basilare molto elementare ma assolutamente necessaria per farvi vedere o per farvi capire eh come si può dare un senso di profondità eh ai nostri concept fin dalle prime eh dei primi bozzetti e affronteremo anche un ragionamento eh preliminare di quello che è il mood cioè praticamente l'aspetto emotivo di un legato alla diciamo così a come si vive un certo tipo di paesaggio quindi a seconda magari di un di un cambio stagione per fare un esempio o comunque di un tipo di condizione atmosferica specifica verrà poi attribuito un mood altrettanto specifico eh è importante perché come dicevo prima viste le produzioni sempre più realistiche no legate al mondo del videoludico anche cinematografico è impensabile che un'avventura che si giochi o che si guardi al cinema non venga vissuta quasi in prima persona siccome c'è questa sorta di compenetrazione tra ehm come dire ehm fruttore del prodotto e prodotto stesso è importante che noi capiamo come si può eh eh far entrare quindi come far immergere ehm chi guarda i nostri concept nel concept stesso quindi rispetto ehm ripeto l'aspetto motivo è molto importante io in realtà non ho delle slide delle slide specifiche però se Stefano fa una condivisione al volo potrei far vedere eh giusto due eh due cosine dove sono finite ma un attimo sono incartato ecco qua perfetto niente questi sono esempi di come si diciamo vengono gestite le lezioni no adesso sono un po' un po' non raffazzonati ma sono un po' sparsi quindi per farvi vedere c'è la parte relativa alle ibridazioni se non faccio danni eh vedete dove comunque si parla della fusione di certi tipi di animali che poi vengono appunto mischiati e frullati per creare un unico un unico essere fantastico e ah mi sono dimenticato chiedo scusa di aggiungere che eh nella creazione di concept legati alle creature ci sarà una parte molto importante che riguarda l'aspetto ehm la forma mentale di un concept artist cioè come un concept artist deve approcciare eh la creazione di un concept che non esiste quindi in questo caso una creatura partendo da che cosa dalla diciamo dall'aspetto culturale quindi leggende mitologia eh fatti di cronaca quello che volete voi eh mondo reale cioè la natura in questo caso e poi il mondo ehm legato alla produzione di eh di genere quindi non so film videogiochi fumetti quant'altro dove queste insomma alcune creature sono già state presentate per poi avere come dire gli ingredienti per poterle renderle più originali e quindi rielaborarle eh come come meglio crediamo eh ok quindi anche in questo caso vedete il insomma si si quello che vedete fondamentalmente è una delle parti finali del dello slot relativo alle alle creature cioè praticamente l'elaborazione di un concept già con una scala di grigio quindi come dicevo passare dalla line art e dalle tinte piatte a una definizione delle volumetrie che in maniera molto più pittorica e quindi gestire la luce come se avessimo stessimo modellando della pasta della creta quello che volete voi e perfetto io mi posso anche mi posso anche tacere perché ho finito di presentare ottimo lavoro Alberto bellissime anche le immagini che mescolavano le reference le reference queste cose meravigliose ma che possono rendere dipendenti a volte non bisogna usarne troppe ma voi gli insegnate a fare anche questo io nel frattempo invito uno dei tuoi colleghi di corso Ivan Bigarella che saluto ciao Ivan c'hai anche le cuffie più belle di tutte le mie cuffie da gamer benissimo senti io nel frattempo saluto Alberto che ripiglio poi per il secondo anno dove lui ritorna con forza e beh Ivan tu ti occupi di un settore che è spassosissimo e molto divertente se io condivido sicuramente le immagini ok eccoci qua sì io sono Ivan Bigarella mi presento brevemente sono un illustratore fumettista di professione principalmente oltre che docente della scuola come diceva il buon Stefano io arrivo a fare la parte un pochino più divertente diciamo che questa immagine che vedete rappresenta un pochino quello che sono e quello che faccio quindi arrivo verso la parte finale dell'anno giustamente dopo aver attinto a piene mani in quella che è la struttura base appunto dell'anatomia piuttosto che la prospettiva e il character design trattato da il buon Giuseppe per andare ad operare quella che fondamentalmente è una sintesi che è molto importante per lo stile cartoon quindi vado ad operare su quella che è la grammatica delle forme base la linea dinamica quindi non solo linea come tratto esterno come line art ma anche come linea posturale appunto linea dinamica che può dare un senso di movimento esasperato ai nostri personaggi questo perché nello stile cartoon è fondamentale che la natura del nostro personaggio venga svelata a un primo sguardo deve essere molto diretto rispetto a un realistico che chiaramente deve essere interessante, deve risultare interessante deve essere molto forte a livello di impatto il cartoon in più deve anche essere in grado di tradurre appunto quella che è la personalità di un carattere piuttosto che anche di un ambiente perché poi questa teoria delle forme e quindi io vado un attimino ad affrontare questo discorso andando a fare delle analisi per esempio su vari personaggi diversi e vado ad analizzare come più si alza il livello narrativo del nostro videogioco più le forme, la grammatica delle forme diventa complessa proprio all'interno del nostro personaggio quindi vado ad analizzare il perché vengono utilizzate queste forme e perché vengono unite delle forme ad altre forme lavoro molto anche su quello che sono i contrasti e le variazioni tra queste forme per dare un punto di interesse e appunto per esaltare, esasperare quella che è la sua caratteristica faccio questo attraverso un genere di esercizi di questo tipo vedete che qua per esempio visualizzo un tipo di personaggio sempre lo stesso personaggio in diversi stili di videogioco e allora vado a creare vado a creare una struttura di base che possiamo chiamare a scheletro alla quale vado ad unire delle forme e attraverso di ciò riesco a creare il mio personaggio che deve essere chiaramente relativo al tipo di videogioco che stiamo andando a trattare quindi più complesso o più semplice in base appunto allo narrativo del nostro gioco propongo anche un diverso approccio allo studio del personaggio per esempio come diceva Giuseppe per esempio lui parte da delle silhouette in questo caso io faccio partire da delle bozze semplicissime a matita che poi vengono strutturate a livello di scheletro alla quale poi vado ad inserire appunto le forme base per avere un volume dei nostri personaggi perché è molto importante che anche i nostri personaggi che vengono studiati in 2D vengono sempre pensati come dei personaggi con dei volumi ben chiari e presenti quindi vado a fare esercizi di questo tipo in più appunto vado ad approfondire anche il discorso della linea dinamica appunto sempre per un discorso di esasperazione e quindi di recitazione esasperata del nostro personaggio nello stile cartoon facendo fare degli esercizi particolari magari su una specie di disegno dal vero un gesture drawing un attimino rivisto sia sulle creature che anche su esseri umani per esempio per andare a dare anche un contesto un attimino diverso all'immagine che abbiamo però mi interessa anche cercare di far sviluppare agli studenti un pochino di fantasia diciamo che cerco di spronarli a tirare fuori qualcosa in più appunto per dare un carattere più spiccato al personaggio e questo approfondimento lo faccio soprattutto anche perché chiaramente non tutti sono legati a uno stile prettamente realistico qualcuno potrebbe aver bisogno appunto di approfondire di più la sua anima cartoon e questo appunto io vado ad affondare le mani con felicità su questo benissimo ok Ivan noi ci ci rivediamo in realtà poi per il secondo anno fra pochi minuti perché anche lì tu hai una parte molto interessante e che sviluppi e rinvito al momento Alberto Dallago di nuovo che ritorna Ivan ci vediamo fra pochissimo Alberto io ti cedo la parola perché tu hai una bella fetta ancora come dire di lavoro all'interno del secondo anno perché in realtà prima Beppe De Jure è stato estremamente esauriente sia una parte delle lezioni del primo che del secondo ti lascio anche a te un 4-5 minuti e ci rivediamo fra pochissimo fantastico ok com'è si conclude il secondo anno il ciclo di lezioni dedicate alle creature e alle ambientazioni quindi diciamo così che il secondo anno possiamo riassumerlo come un'implementazione di tutto quello che è stato visto al primo anno ovviamente con l'aggiunta dell'ingrediente fondamentale che è appunto il colore come? beh innanzitutto partendo da quella che è la teoria del colore e in questo caso mi sento di fare una così una specifica abbastanza importante è la teoria del colore classica possiamo dire accademica come la studieremmo in qualsiasi scuola d'arte più o meno quindi quello che riguarda il cerchio cromatico gli schemi di colore i contrasti le armonie tutto quello che ha a che fare con l'utilizzo del colore in senso teorico ok come si abbinano i colori e perché i colori si comportano in una certa maniera questo perché lo dico sempre poi se noi consideriamo il computer come uno strumento è chiaro che dobbiamo cioè non possiamo prescindere comunque da una teoria di base quindi se non conosciamo la teoria del colore sicuramente non sarà Photoshop a insegnarcela detto questo la teoria appunto parte ripeto in senso classico poi chiaramente si si discosta leggermente però abbia ragioni ovvero si parlerà di quello che è l'approccio più tecnico quindi la colorazione digitale in senso stretto che prevede la conoscenza di tanti e per alcuni casi anche molto simili cioè tecnicismi tecnicismi di colorazione cioè nel senso il modo in cui Photoshop ci aiuta o ci permette di colorare può essere visto in diverse maniere il risultato poi sarà lo stesso quindi le dinamiche di colorazione che passano attraverso non so lo studio di come si settono alcuni livelli come si attivano alcuni comandi tanto per essere insomma per fare qualche esempio è importantissimo e soprattutto perché è grazie a Photoshop che potremo poi andare a creare quegli effetti così appunto pirotecnici molto cinematografici all'interno dei nostri concept quindi ribadisco sempre il concetto del mood che è legato a un certo tipo di luce un certo tipo di luce un certo tipo di effetto di luce lo si può ottenere sapendo come tecnicamente viene fatto appunto tramite l'utilizzo di Photoshop ovviamente visto questo insomma quali sono questi parametri fondamentali per colorare digitalmente e in questo senso posso fare un'anticipazione si vedrà un tipo di colorazione sia partendo dalla scala dei grigi quindi su diciamo la base che abbiamo lasciato comunque al primo anno e sia partendo direttamente con il colore e lì è tutta un'altra avventura diciamo la verità si prosegue poi con le creature e non si analizzeranno creature nuove ma si prenderanno in esame quelle che sono alcune delle parti più interessanti che possiamo poi inserire all'interno del nostro concept in fase di diciamo elaborazione definitiva quindi tutto quello che faccio un esempio potrebbe essere l'apparato tegumentario degli animali quindi ogni più maggio per gli uccelli poi le squame per i rettili passando per la pelliccia per alcuni tipi di mammiferi è chiaro che richiede un certo tipo di know-how quindi sapere come si renderizza quel tipo di materiale e li passeremo attraverso lo studio di materiali proprio quindi di texturizzazione che ci aiuterà poi a definire e a rifinire meglio i nostri i nostri concept e ovviamente tutto questo assicuro che viene svolto poi nella maniera più progressiva e più graduale possibile cioè nel senso che ci sono esempi da quelli più semplici e quelli più difficili che poi verranno spiegati e tutti i passaggi così da A alla Z verranno ovviamente visti insieme in classe rifatti da me rispiegati laddove necessario e poi tradotti in un pdf che verrà consegnato ovviamente agli studenti potranno fare più o meno quello che vogliono con quel pdf si spera che lo memorizzino lo metabolizzino lo stesso ragionamento lo possiamo fare anche per quanto riguarda le ambientazioni quindi diciamo si parte appunto da quello che avevamo lasciato in stand by al primo anno per poi andare a implementare tutto quello che è il parco concept degli environment quindi delle ambientazioni con l'utilizzo di luci particolari con anche in questo caso si fa diciamo così un piccolo passo indietro se riprende la teoria del colore riferita però al colore ambientale perché c'è tutto un tipo di diciamo così di nozioni fisiche se vogliamo chiamarle in questa maniera legate a come la luce si propaga non so al tramonto piuttosto che a mezzogiorno cosa succede perché c'è un tipo di luce particolare in un certo tipo in un certo frangente della giornata piuttosto che in un altro tutte cose che magari noi abbiamo registrato inconsciamente ma non sappiamo spiegare perché avvengano quindi è interessante sapere come posso ottenere un effetto non so tramonto piuttosto che un effetto legato a un giorno di pioggia per esempio e ovviamente tutto questo viene cucito insieme in un progetto che poi verrà portato avanti dal diciamo così da metà del secondo anno fino alla fine che diventa il progetto che conclusivo del del biennio di cui non posso svelare assolutamente nulla benissimo senti Alberto non ho altri secondi minuti no guarda se vuoi come dire 30 secondi per finire interrotto io sai che poi parlo un po' così interrotamente cerco il mio pdf eccolo qui se puoi giusto condividere al volo faccio vedere eccoci qua arriviamo subito perfetto questo era quello di prima perfetto vediamo se ecco niente questo è un altro esempio di quello che viene fatto all'interno delle lezioni quindi ecco tipo altre luci ed effetti sul paesaggio vedete che sono tutti i file che conservano poi degli screenshot dei vari passaggi o come si vede dagli esempi successivi diciamo i tipi di colorazione digitale molto molto differenti dalla colorazione tradizionale che passano attraverso come dicevo prima delle fasi particolari che vanno un attimino spiegate e quindi per concludere il discorso del rendering di alcune di alcuni materiali o di alcune parti degli animali viene appunto affrontato nella maniera in cui vedete cioè i passaggi per creare la pelliccia creare i pennelli cosa assolutamente importante e fondamentale in quanto anche la creazione dei pennelli fa parte del bagaglio di informazioni che poi verrà insegnato agli studenti ora mi taccio sul serio no no ci mancherebbe tra l'altro bellissime immagini grazie salutiamo Alberto io ti saluto nel frattempo prima di diciamo di invitiamo Giovanni Maesto un altro importante elemento ciao Giovanni benvenuto io nel frattempo Alberto ti saluto ci risentiamo alla fine per i saluti finali Giovanni ti lascio la parola se vuoi io condivido anche immediatamente le immagini relative al tuo lavoro ti lascio ti lascio la parola grazie mille Stefano mi presento sono Giovanni Maesto e lavoro come illustratore e come concept artist come concept artist lavoro soprattutto nell'ambito dei cartoni animati film e quindi videogame subentro nel secondo anno proprio dal momento in cui forniamo un tema agli allievi e cerchiamo di costruire un progetto come acceliamo Alberto prima che sarà il progetto individuale di tutti gli allievi costruito in maniera che ci sia un immaginario ben saldo dietro quindi tutto ciò ripercorriamo come accennava Giuseppe prima una pipeline di produzione che in realtà simula tutta la vera produzione di una produzione di videogame vera e proprio gli step essenzialmente soprattutto quelli fondamentali che ci permetteranno di costruire appunto questo progetto sono semplicemente due o soprattutto due il primo è quello del tema dove noi forniamo un tema una storia e gli allievi sono chiamati in causa a interpretare queste stesse informazioni e se necessario a ridefinirle ulteriormente insomma quindi c'è già questa fase in cui ci si dedica non solo semplicemente a tutto ciò che è relativo alla concept ma anche a qualcosa che viene prima che è l'ideazione stessa già guardando questa immagine come supporto visivo noi possiamo renderci conto che da un sistema da un cubotto possiamo arricchirlo fino ad ottenere una storia o qualcosa che riguarda unicamente questo immaginario quindi questa fase viene soprattutto costruita avendo delle informazioni che appartengono tecnicamente in una pipeline di produzione al creative director che ci fornisce e noi dobbiamo estendere quella stessa idea con lo stesso concetto l'immaginario stesso l'altro punto cardine fondamentale oltre alla narrazione quindi non è quello del gameplay qui studiamo gli environment interni soprattutto in funzione a questo e vale a dire che tutto ciò che noi mettiamo in scena deve sostenere non solo il piano narrativo quindi vale a dire che ogni informazione che appartiene a questo scenario deve fornirci un qualcosa sulla storia non sempre verbalmente quindi devono esserci dei segni degli oggetti che ci parlano dei caratteri coinvolti l'altra quindi è quella del level design il gameplay di un gioco e vale a dire che tutto ciò che noi creiamo qui dentro dentro questo ambiente o livello di gioco deve funzionare e ciò vuol dire che noi non dobbiamo solo disegnare architettare una scena ma dobbiamo valerci come si diceva già prima sia del sistema dell'illuminazione delle luci dinamiche tutto ciò che serve proprio per far sì che funzioni il gameplay vi faccio un semplice esempio se in una scena X ad esempio se in questo environment interno avessimo un'illuminazione rilassante dai toni freddi che ci permette che permette al giocatore quindi di interagire con i vari oggetti e perdere 30 minuti di gioco basterebbe che da un momento all'altro accendendo la famosa luce rossa lo stesso ambiente cambia ma vale a dire è il modo di porsi del giocatore che poi cambia e innesca un gameplay diverso ecco queste sono tutte regole che ci permetteranno che permettono a noi di capire come gestire tutti gli elementi presenti in un environment oltre agli environment interni quindi ci sono gli oggetti gli oggetti possono essere quindi sia scenici appartenere a questo contesto oppure possono essere degli oggetti che appartengono svincolati dall'environment ma appartengono ai caratteri coinvolti tutto ciò che facciamo anche qui è sempre costruire la nostra concept in virtù di tutte le nozioni che sono sul piano narrativo e quello del gameplay oltre questo se ci rapportassimo appunto su una pipeline di produzione capiamo che quella è la fase iniziale la fase secondaria è quella della creazione degli asset vale a dire non solo dobbiamo ingegnare qualcosa ma dobbiamo anche assicurarci essendo in una catena di produzione non essendo i soli che tutte queste informazioni che poi noi portiamo su un piano 2D siano chiare per chi poi viene dopo di noi e quindi realizzerà dal piano 2D proietterà sul piano 3D tutto il nostro concept ecco quindi la capacità deve essere proprio quella di fornire tutte le indicazioni necessarie per far sì che sia fedele la trasposizione appunto su questo stesso piano oltre alla produzione dei materiali poi dopo c'è anche un'ultima e altra fase di cui ci occupiamo è quella della promo art che vale a dire che in questo caso tutto ciò che noi faremo deve essere una sintesi deve replicare l'immaginario del videogioco e quindi deve essere un'immagine molto più forte e impattante dove le regole tecniche come possono essere qui in questo caso gli asset tecnici non esistono più questo ci fa capire che in una tempistica di un anno del secondo anno quindi ricorreremo tutti quelli che sono gli step di una pipeline che sono totalmente differenti l'uno dall'altro quindi noi non facciamo altro che predisporre dare i mezzi ad ogni singolo allievo per far sì che ognuna di queste ogni step sia risolto in base a quello che serve essenzialmente quindi laddove è il momento di prototipare di designare in qualcosa siamo nella prima fase quando questo viene provato noi dobbiamo essere capaci di produrre quelle che sono le scomposizioni tecniche le proiezioni ortogonali tutto quello che serve per far sì che chi dopo di noi insomma riproduca fedelmente tutto quanto poi servirà per costruire l'inverimento di gioco stesso ecco tecnicamente questo è il lavoro che faremo durante il secondo anno coordinandoci poi naturalmente con i personaggi con tutte le altre materie che affronteranno i miei colleghi insomma tutto questo poi per far sì che ci sia un unico immaginario un unico progetto che funzioni e che sia credibile anche su un piano di un gameplay di un gioco vero e prof insomma ho cercato di dire Stefano ah sei stato guarda sintetico immagini splendide bellissime io intanto rinvito all'interno del nostro streaming Carlo Piu e benvenuto Carlo saluto Giovanni e ci si risentiremo insomma per i saluti finali ciao Giovanni Carlo tu arrivi a un punto in cui ci si occupa a questo punto di meca e non solo che ci dici in un paio di minuti molto stretti ma molto rapidamente durante il secondo anno i ragazzi ovviamente sono diventati molto più bravi più celeri a disegnare a questo punto è opportuno riprendere la prospettiva e costringerli un po' a pensare in termini proprio tipici del meca design quindi immaginando la forma però seguendo sempre una funzione una necessità che siano appunto legate al meca design in questo caso che si vuole creare si parte in realtà in maniera molto simile a quello che hanno già affrontato durante il primo anno e affrontano già contemporaneamente il secondo anno quando creano i loro personaggi e i loro asset perché anche per il meca design si parte nuovamente con le silhouette solo che questa volta diventeranno un elemento tridimensionale che come dire possa effettivamente essere poi utilizzato così com'è o riprodotto poi da un 3D artist avendo ovviamente tutte le caratteristiche per essere trasmesso come documento di lavoro vero e proprio si parte sostanzialmente quindi con una ripresa di quanto avevamo detto durante il corso di prospettiva e si applicano alle strutture meccaniche in questo caso che i ragazzi decidono di utilizzare ed effettivamente poi la parte diciamo del corso di scusatemi di meca design si conclude quando questo design che creano insieme a me viene poi passato sotto le mani sapienti degli altri docenti Ivan l'avete conosciuto prima Massimo Malosso di cui faccio le veci oggi in particolare sono quelli che si occupano di questa seconda fase del corso di meca design e quindi si parte appunto dal disegno in line art se vogliamo e lo si porta infine a una elaborazione a un rendering definitivo con tra l'altro grazie al sostegno di Massimo anche l'introduzione al matte painting proprio in questa fase quindi sostanzialmente da zero a disegno definitivo di quello che è un meca design quindi possono essere robot mezzi tutto quello che di meccanico vi viene in mente Stefano sono stato velocissimo me ne rendo conto manca solo il meca design della razzo ma ci siamo hai fatto anche queste parti legate al matte painting curate da Massimo in realtà poi ci sono anche delle lezioni delle pillole di piccole lezioni sempre dedicate al mondo della concept art possiamo anche aggiungere nel frattempo rinvito anche Ivan per diciamo per concludere il genio ciao Ivan di nuovo e che diciamo la pandemia ha portato una serie di ovviamente di cose sgradevoli molto sgradevoli diciamo che ogni tanto però vanno usate anche le cose sgradevoli per trasformarle a nostro vantaggio il vantaggio è che dall'anno prossimo come in realtà un po' per tutti i corsi potremmo avvalerci proprio dei collegamenti online per avere ospiti anche delle persone anche se noi si spera di rientrare ovviamente a ottobre in classe per come dire ripristinare la cosiddetta bottega artigianale ma potremmo avvalerci di ospiti che magari staranno come dire in altre parti del mondo oppure in altre parti della penisola italiana e quindi magari non potrebbero spostarsi in aereo o per dei giorni perché hanno lavoro ma potremmo capire insieme a loro che cosa significa lavorare per un certo tipo di software house o per un certo tipo di prodotto videoludico che vada dal cinema alla tv al videogame Carlo io ti saluto lascio l'ultima come dire parola a Ivan e con cui concluderemo Ivan vai pure se c'è qualcosa da condividere vai pure sintetico sì io rientro nel secondo anno come nel primo anno arrivo un pochino verso la fine sempre per un discorso che per poter rappresentare sintetizzare in stile cartoon anche il mecha design chiaramente è necessaria una base realistica concreta molto forte appunto perché più è forte la conoscenza di qualcosa di reale più è facile la sua trasposizione in qualcosa di più semplice però efficace e non banale che sembra sembra banale detto così però non è così facile trovare una sintesi adatta quindi se condividi un attimino lo schermo Stefano faccio vedere un attimino quello che è l'esercizio che faccio fare ai ragazzi per esempio in questo caso del mecha come in realtà è anche nel caso dei personaggi umanoidi vado ad operare quella che è una scomposizione molto semplice del mio oggetto in questo caso per esempio un apicar e vado a creare diverse tipologie di varianti dello stesso personaggio in questo caso è un mecha design che si fonde con qualcosa di organico quindi spingo i ragazzi anche a non fermarsi alla prima versione chiaramente del personaggio del concept e vado a creare diversi concept sulla base della stessa tipologia di struttura andando a inserire degli elementi diversi nella nostra scomposizione molto semplificata del personaggio dopodiché come ha detto giustamente anche Stefano quest'anno ho fatto un pochino di necessità da virtù e ho approfittato dello streaming per lavorare insieme ai ragazzi mentre loro operavano l'esercizio sono andato a definire e anche a produrre a colori quello che è il caratter definitivo in questo modo loro avevano sia la possibilità di fare l'esercizio piuttosto che appunto di vedere anche un attimino quale poteva essere un suo sviluppo a livello pratico o un mio comunque metodo di lavoro questa è la parte mecca poi io arrivo anche a fine anno per andare a strutturare quella che sarà una schermata videoludica sempre in stile cartoon perché io mi baso su quello e che andrà a rappresentare appunto quello che è un gioco un run and gun a scorrimento piuttosto che un shot em up che è il picchia duro a scorrimento fondamentalmente e andremo appunto a visualizzare questa tipologia di schermata in questo caso non vi faccio spoiler visivi perché insomma interessante anche scoprirlo durante il corso certe cose vorrei svelare troppo quindi questo fondamentalmente è quello che andiamo a fare nella parte finale del corso che riguarda lo stile cartoon ecco quindi Stefano se vuoi riprendere come ti ho detto sono stato eccomi sei stato assolutamente sintetico io noi siamo arrivati alla fine e ti invito Alberto Dallago all'interno dello streaming ciao Alberto diciamo che c'è da dire anche una cosa ogni anno ovviamente c'è una votazione in trentesimi dei nostri allievi c'è l'esame come dire del loro book e quindi che poi è quello che loro porteranno è come dire il loro biglietto da visita non siamo fortunatamente giudicati né in base alla nostra età al sesso o all'aspetto ma il book che sia digitale o manuale è quello che una volta arrivato in mano alle persone che decideranno chi lavora e fa la differenza e quindi quel book lì non solo verrà esaminato da voi docenti ma anche da un da un esperto da un collega esterno che noi inviteremo e a cui faremo vedere come dire non solo il book ma che simula quasi anzi senza quasi simula davvero quello che potrebbe essere un appuntamento con un art director con un senior concept artist che viene a visitare o viene come dire a visionare il lavoro se vuoi dire due parole sull'esame finale esatto come? se vuoi dire due parole sull'esame finale appunto su questo diciamo dove un po' gli allievi vengono come dire ripresi come dire un po' estrattonati per arrivare come dire alla fine perché non è una cosa così semplice poi come dire immettere il lavoro all'interno di un book funzionale assolutamente beh allora io prima avevo fatto un accenno proprio al professione e al professionismo cioè professionismo e professionalità perdonami sono sembrano sinonimi ma non lo sono quindi essere preparati a quello che è il mondo del lavoro mediante gli step che insomma in qualche maniera creeremo durante l'anno tenendoli un po' per mano e poi lasciandoli andare come giusto che sia e perché è giusto che il portfoglio come dicevi stavi anticipando te sia il loro biglietto da visita quindi della serie io sono Alberto e gli faccio questo e quindi il portfoglio parla in qualche maniera invece del di chi l'ha fatto però la professionalità è importante quindi anche capire che fare concept artist deve prescindere dal vezzo artistico come dire quindi noi cerchiamo anche di impostare diciamo tutto l'apparato delle lezioni ma anche dell'esame cerchiamo di far capire che c'è un atteggiamento professionale che va tenuto sia a scuola che fuori da scuola che poi farà la differenza nel mondo del lavoro l'esame diventa appunto un coronamento ideale del percorso e diventa anche una sorta di è brutto dire scrematura ma non è una scrematura però con l'aiuto anche di un commissario esterno ha proprio il sapore di una sorta di appuntamento di lavoro quindi diciamo che vogliamo improntarla più in quella maniera lì piuttosto che essere il classico esame dove dai il voto e basta deve essere proprio un appuntamento di lavoro cioè della serie presentati a un commissario esterno cerca di convincerlo che sei la persona migliore per il tipo di lavoro che lui sta cercando idealmente è importante perché forse non passa durante l'anno questo concetto noi cerchiamo di toccare queste corde ma molto spesso succede che magari si sottovaluta un po' quello che è l'aspetto anche umano se vogliamo del mestiere e quindi è importante che lo studente capisca che sì non è mi piacciono solo i videogiochi io ho fatto l'esame siamo un concept artist c'è un iceberg sotto molto più solido molto più profondo e noi questo abbiamo anche il dovere di palesarlo in qualche maniera quindi spero di non essere stato troppo retorico in questa mia chiosa finale però comunque direi assolutamente realistico perché poi alla fine si esce da scuola e si va nel mondo del lavoro io ho messo una schermata generale anche se appunto qualcuno degli insegnanti manca anche qualcuno che fa quella lezione una o due lezioni in più ma diciamo che il clou degli insegnanti è presente e li ringrazio tantissimo io ricordo a tutti che questa diretta rimane comunque sul canale facebook di scuola perciò può essere visionata quando si vuole si può portare avanti come se fosse un dvd vedere le parti che interessano e può essere quindi consultata da chiunque soprattutto dagli allievi che magari vogliono capire che cosa si fa un po' più nello specifico ringrazio tutti vi saluto vi ricordo che la prossima settimana invece approderemo al corso di 3D artist e se i concept artist hanno fatto un buon lavoro i 3D artist dovrebbero riuscire a tirare fuori delle cose non indifferenti un saluto ringrazio tutte le persone che ci hanno che sono state insieme a noi grazie a te di amici e ci vediamo la prossima settimana buona serata a tutti oh spritz time mi raccomando così tutti vicini e senza mascherina è pericoloso infatti è tutti vicini grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti